Oggi abbiamo inaugurato qui a Fiume Veneto il Centro per le Famiglie, uno dei primi in Friuli Venezia Giulia e con la legge regionale del dicembre 2021 che viene ridata nuova e rinnovata importanza ai centri per le famiglie. Uno spazio dove professionalità diverse sotto il coordinamento del Servizio Sociale dei Comuni potrà offrire ai genitori, alle neomamme, alle famiglie, ai ragazzi, ai bambini spazi di condivisione, consulente, sportelli informativi ma anche uno spazio dove si possono sviluppare delle progettualità per la famiglia.